vi salvate le modifiche poi li impostarò, poi li aggiornerò bella Nico oggi purtroppo non sono in vena di giocare tantomeno di fare i tutorial quindi sto giocando molto for fun però ogni volta come ben sapete piano piano vi aumento il livello questa è una build che consiglio magari a chi pensa di saper giocare killer ma intanto va dare i calci sui generatori e vi ricordo il killer non è un calciatore non è un survivor quindi smettetela di fare i calci sui generatori fate i killers purtroppo il killer fa il killer eh gg Ahhhhhhhhhhhhhh! Ahhhhhhh! Ahhhhhhh! Vabbè non salta quindi non la grabo. Sta bene lì. Ahhhhhhh! 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 Mettiamolo più vicino dai così almeno mi diverto un po' di più. Eh vabbè. Si mette a sganciare il coso. Ti faccio gg. Che ti devo dire? Ti credi furgo? Nomm! Ahhhh! Ahhhh! Fangio- Ahhhhhhh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mazza che bravo. Che pro. Che pro player. Che pro team. Il problema è che questi giocatori non sanno che questo è un gioco di squadra. Loro pensano che sia un gioco individuale nel quale basta fare i generatori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.